Nel 2003 la decisione di mettere in comune esperienze, sensibilità e impegno, l'associazione Pandolia festeggia un traguardo importante, quello di 10 anni di vita, 10 anni in cui le donne produttrici di olio hanno promosso un modello culturale ed insieme imprenditoriale. Quando abbiamo costituito Pandolia pensavamo di ottenere tanti riscontri, tanti riconoscimenti. Siamo riuscite, con l'impegno ovviamente di tutte le socie nel territorio, a coinvolgere circa 15.000 bambini e ragazzi di tutte le età, di tutte le scuole, e quindi credo un bilancio positivo che ci spinge a lavorare sempre di più e meglio. La prossima sfida è quella di riuscire a distituire nelle scuole italiane la settimana dedicata all'educazione alimentare, un'iniziativa che trova consensi e alleati in Parlamento. Da tempo che stiamo lavorando in questa direzione abbiamo esortato anche i ministeri preposti, l'agricoltura e anche la pubblica istruzione affinché in tutte le scuole ovviamente possa essere previsto questo programma. Nel sud Italia le donne imprenditrici o le aree non sono ancora moltissime, ma quelle in prima linea hanno decisamente fatto una scelta di qualità. Una pro le pandole ha su tutta una serie di obiettivi, stanno collaborando, non solo obiettivi culturali ma sostanzialmente obiettivi economici. In fondo diffondere una cultura su un modello agroalimentare, su un modello alimentare, su un modello di mantenimento e governo del territorio, fatto tramite imprenditrici che direttamente si impegnano, va esattamente nella direzione del sistema, una pro col diretti che si muove tutto in questa direzione. Grazie. 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 Grazie.